Il CREA di Foggia è diventato centro di ricerca ceralicoltura e culture industriali, quindi è passato dalla ricerca sulla sola ceralicoltura acquisendo anche la parte di culture industriali. Il CREA è uno dei nuovi 12 centri del CREA, a Corpa e coordina 7 sedi in Italia, è uno dei pochi che ha una sede principale al sud ed è l'unico che ha una sede principale di coordinamento in Puglia. Il sistema di frumento deve pensare ad una grande parola d'ordine, quella della sostenibilità, quindi sia gli sforzi genetici che devono andare verso varietà dotate di resistenze multiple, sia gli sforzi agronomici che devono consentire al sistema ceralicolo di ottimizzare i costi, quindi di ottimizzare i costi sia ambientali che di produzione e quindi l'agricoltura in precisione va in quella direzione. Va nella direzione di riduzione dei costi e ottimizzazione degli interventi. Gli investimenti fatti nei confronti di strumenti e sia software che di attrezzature per l'agricoltura in precisione poi ripagano l'azienda in termini di minori costi. AgriDigit è uno dei due grandi progetti, dei due pilastri progettuali del CREA dei prossimi tre anni, uno sulle biotecnologie sostenibili e uno su questa agricoltura e precisione, ma non solo. Quindi significa rivoluzione digitale in agricoltura. Terrà impegnati molti dei nuovi centri del CREA e anche con la collaborazione di università e altre istituzioni di ricerca sul territorio nazionale per dare una svolta digitale all'agricoltura nazionale. Possiamo pensare a tre livelli di agricoltura digitale o agricoltura di precisione. Il primo livello è quello della guida assistita che consente di collimare le passate e di ottimizzare lo spazio, quindi è legato semplicemente alle macchine operatrici. Il secondo livello è quello che utilizza sensori e georeferenziazione per ottimizzare la distribuzione degli input agricoli sul territorio, anzi sull'azienda, sull'appezzamento. Il terzo livello è quello di filiera o di territorio in cui tutto un comprensorio è ottimizzato perché è legato a degli strumenti digitalizzati e di agricoltura di precisione. La ricerca deve pensare a fornire gli strumenti che poi verranno utilizzati sia dall'azienda che anche dai privati. Il mestiere del ricercatore è quello di creare nuova conoscenza, di avere idee che possono poi essere applicate. Un'idea di aumentare la densità del grano sul metro quadrato consente al grano di competere meglio con gli infestanti, quella è un'idea. Poi da lì, diciamo, e quella ricerca deve mettere in moto tutti i successivi strumenti per portare questa idea all'operatività, quindi al trasferimento della ricerca. Deve scoprire nuove conoscenze, deve capire perché i cereali sono più resistenti alle malattie, quali sono i geni che li guidano in questo, quali sono i geni che li guidano nell'ottimizzare l'uso dell'azoto, perché di azoto e di fosforo c'è fame, azoto e fosforo costano, e i nutrienti costano e quindi dobbiamo capire perché le piante sono in grado di ottimizzare questi nutrienti e fare nuove varietà che consentano di ottimizzare questo uso dei nutrienti e dell'acqua. L'agricoltura di precisione è un'agricoltura da imprenditori, per cui bisogna essere disposti a rischiare, disposti a giocarsela con un minimo di rischio, ma anche di capacità professionale e capacità tecnica. L'agricoltura di precisione la lasciamo, secondo me, al passato, diciamo la vera è un'agricoltura di imprecisione. Funziona sia per i grandi che per i piccoli e funziona soprattutto per i grandi o per i piccoli che sapranno essere inseriti in quel livello terzo di agricoltura di precisione, che è quello di una filiera per esempio, e che si sapranno quindi mettere assieme per raggiungere un unico obiettivo e magari anche condividere i mezzi di produzione. È un valore aggiunto in più anche per il frumento perché con questo si può ottenere un risultato di sostenibilità. Ci sono grandi aziende in Italia che hanno già capito questa cosa. Il drone è un veicolo, è uno strumento che porta delle attrezzature importanti che sono le camere, sia che operano nel visibile, sia tetraspettrali, sia termocamere nell'inferosso. Noi abbiamo diverse possibilità di montaggio sotto al drone, non devono essere troppo pesanti, ma consentono di avere una visione dall'alto sia del terreno che delle piante. Per esempio si può fare una visione di un campo e quindi in un'unica immagine ottenere il dato di centinaia di parcelle di indice di vegetazione. Cos'è l'indice di vegetazione? È un indice che ti dice come quella parcella di piante, di grano, sta rispondendo per esempio alla concimazione azotata o come sta rispondendo alla mancanza di acqua o all'attacco di un determinato patogeno fogliare. Una pianta più malata o più sana ha un diverso indice di vegetazione, di bontà della vegetazione e quindi di possibilità di produrre. Questa informazione noi vorremmo che ci consentisse di fare quello che è il cosiddetto breeding di precisione, cioè il miglioramento genetico fatto non più soltanto con l'occhio umano, ma anche con una raccolta di un numero elevato di informazioni che consentano di gestire dei numeri molto elevati e quindi portare un'innovazione tecnologica in questo settore. Poi per la gestione agronomica ovviamente è al pari di altri strumenti di rilevazione di immagine, questo su scala più ridotta, i satelliti su scala anche territoriale più ampia. I agronomici sono immagazzinati in una memoria che poi viene portata su un server e lì poi le immagini vengono analizzate e diventano sostanzialmente dei numeri, degli indici che poi noi servono per la selezione. Vengono utilizzate dalle macchine nel caso che stiamo parlando di strumenti di supporto alle decisioni, cioè di dati che possono essere utili per i rate o variabili piuttosto che per altri sistemi di agricoltura di precisione. Nel nostro caso vengono utilizzati pure per questione di ricerca e di ricerca applicata, come l'ho detto, per ottenere indici da utilizzarsi nella selezione delle piante. Grazie!